Io collego i puntini per raccontare le storie. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Ve lo ricordate, sì, Steve Jobs che dice che, in quel famoso discorso a Stanford, che è la prima delle tre storie che vuole raccontare, riguarda i puntini. I puntini che seminano la vita e che, uniti da un filo, finiscono per darti una direzione. Ma sono puntini che guardi soltanto a ritroso, non li puoi vedere davanti, anche se Buonaventura diceva che con l'arte messa da parte qualcosa si fa, ma è tutto un altro discorso. Ecco, quello che sto facendo adesso è collegare i puntini e lo faccio da un punto di vista soprattutto professionale, ma anche umano, ma professionale, ma anche umano. Perché noi oggi siamo quello che abbiamo imparato ad essere, quelle che sono le nostre esperienze, così come siamo stati plasmati dalle nostre esperienze. E quindi nel raccontare professionalmente cosa sono oggi, devo fare mente locale, su cosa sono stato come persona, che cosa ho imparato nella mia vita, in che modo tutto quello che ho appreso nella mia vita mi permette di essere oggi una persona migliore e un professionista migliore. O comunque non migliore perché migliore di che cosa, migliore di chi, mi devo lasciar perdere, ma un professionista affidabile e una persona affidabile, che è una cosa più efficace, più diretta e probabilmente molto più vera. E quindi nel collegare questi puntini io sto raccontando su Facebook e su LinkedIn e poi vorrei mettere tutti assieme, non perché abbia l'intenzione di fare un'autobiografia, ma semplicemente appunto tracciare un percorso, quello che mi è capitato nella vita. Le persone che incontrando nella vita mi hanno permesso di essere quello che sono oggi, mi hanno insegnato molto, mi hanno aiutato a correggere la rotta, a migliorare, a perdere quella sprezza, quel gusto di selvatico che avevo e a diventare forse migliore, non lo so, sicuramente migliore di prima, non so quanto confronto agli altri. Quello che devo guardare sono me stesso e quindi è me stesso, sono io, e quindi devo guardare se sono migliorato in qualche modo o meno. Ma mi piace molto l'espressione di Steve Jobs, tuttavia ne preferisco un'altra. E ho iniziato una frase con un ma, speriamo che sia stato tagliato dal video. C'è un'altra espressione che secondo me ha ancora più senso e che credo mi rappresenti di più. La cito spesso e la voglio ricordare qui. E cioè è quel tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Che fondamentalmente vuol dire che tutto concorre al bene per coloro che avendo lo sguardo di Dio sono in grado di tirar fuori i puntini che contano di più, quelli che realmente fanno la differenza. E quindi mi piace rifarmi più a questo tipo di tracciato, che tra l'altro è stato ricordato da un santo che porta il mio nome, o sono io che porto il suo, o scegliete voi, per capire come tutta la mia vita passata, che è senz'altro di più di quella che mi resta da vivere davanti, beh mi ha portato fin qui. E chissà quello che sto facendo oggi, anche questo caffè, dove mi porterà domani. Buongiorno e buon caffè.